Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, come sempre, carico, carico, carico. Allora, estate 2024, sarete in forma? Ecco perché fallirete, ve lo dico io, ve lo dico io perché fallirete e non sarete in forma. Per forma che cosa intendiamo? Intendiamo che avrete una forma migliore dell'estate precedente. Se non sarete meglio dell'estate precedente in termini di definizione muscoli, misure e peso corporeo, vuol dire che avete fallito. Fallito in che cosa? Fallito nella vostra ambizione di diventare un super fisico ai massimi livelli naturali. Se non avete questa ambizione, che siete dei mediocri e vi accontentate di più o meno stare benissimo in spiaggia, dai rispetto alla media che c'è, sappiamo che non è difficile avere un minimo di forma, no? Allora, ok, va bene, probabilmente sarete uguali l'anno scorso, forse peggio, ma ha poca importanza. Se non siete ambiziosi in questa cosa, state sereni, eh? Chi è che diceva? State sereni, stai sereno, eh? Bene, ma se non siete fra questa categoria di persone che non hanno ambizioni, che non è una bella cosa, non avere ambizioni, eh? Non è una bella cosa. Cioè, quando uno veramente non ha un obiettivo da perseguire, un qualcosa da migliorare, sostanzialmente io dico, ma che cosa fa nella vita? Uno si annoia. Lo so, qualcuno dice, eh, ma se tu parli, ma nella vita ci sono ben nati i problemi, c'è il lavoro, la famiglia, la salute, ma indubbiamente, ma indubbiamente, ho sempre detto che sono le cose primarie e che dopo viene la palestra, ma detto questo, se diciamo un uomo è in una condizione, diciamo, più o meno stabile, nel senso che non gli manca nulla, c'ha un lavoro, c'ha una casa, c'ha una famiglia, insomma, se siete in una condizione di normalità e non siete in grosse difficoltà, perché quello è tutto un altro tema, e certamente lì non si sta a pensare al culturismo, cioè, e voglio dire, un uomo che è in una situazione di tranquillità, che cosa fa? Cioè, se non ha una passione, un'ambizione, uno scopo, più che passione, io direi uno scopo. Vedete, vi faccio un esempio, sapete che a me piace fare degli esempi, così, delle metafore, ma questo poi non è tanto una metafora, perché è una cosa che esiste realmente in natura, attenzione, c'è una specie di cervo, che cosa succede? Nel periodo della gioventù, della massima forma e vigore fisico, nel periodo della massima riproduzione, perché la natura guarda sempre a quello, cosa succede? La natura, l'evoluzione gli fa sì che in questo periodo le sue corna diventano grandi, sempre più grandi, veramente proprio un simbolo della sua energia, della sua vitalità, ok? Quando decade, quando diciamo, passando con il tempo, che il cervo non ha più la gioventù, comincia andare nella vecchiaia, queste corna cominciano a decrescere, fino quasi a sparire, uno dice, beh allora, ma è semplice, perché le corna non tendono a regredire e sparire? Sapete perché? Perché il cervo ha esaurito il suo scopo, non ce l'ha più, non avendo più scopo, la natura dice, ok, hai esaurito il tuo scopo, arrivederci, non so se avete capito, allora, se non volete fare la fine del cervo in senso metaforico, simbolico, cioè che non avete più nulla da perseguire, non avete più scopi, non c'è, c'è un'involuzione mentale, a volte anche fisica, perché quando non c'è un progresso verso una meta, quando non c'è uno scopo, il senso di tutto non c'è, ovviamente molti trovano scopi in altre cose, ci mancherebbe, io però sto dicendo che questo scopo qui, per un uomo, può essere una cosa che dà un senso, anche alla vita, oltre che ci guadagnate anche in salute. Allora, detto questo, perché non sarete in forma quest'estate? Ve lo spiego, sostanzialmente per tre motivi, fondamentalmente per tre motivi, il primo è questo, avete sprecato il vostro tempo in massa, non avete fatto progressi in termini di misure muscolari, peso corporeo, aggiungo anche di forza, ma questo per l'aspetto estetico è relativo, quindi se non avete fatto questi progressi in massa e siete più o meno uguali alla massa dell'anno scorso, sostanzialmente avete fallito, quindi bene che vada a ritornare, bene che vada, ritornerete come l'anno scorso, perché a volte si può anche andare peggio, quindi il primo fallimento è stato nel vostro periodo di massa, che non avete fatto le cose per bene, non avete fatto le cose per bene, magari avete dato retta a quei soliti grandi guru di turno, che vi dicono sciocchezze immense, no? Sciocchezze immense, perché voi credete a questa gente? Perché vedete magari certi tipi di fisici, dico beh se l'ha detto lui che ha questo fisico, ah beh allora ce l'ha detto lui che ha quel fisico, state tranquilli che è tutto vero, magari non vi passa per la mente che sia il fisico di un bombarolo, anche se questo dice che invece non lo è, non vi passa per la mente, no? Allora siete stolti, oppure che ne so, darete retta ai consigli di qualcuno che con culturismo ci azacca poco, sia fisicamente sia come concezione e quindi anche lì avete fallito, oppure siete andati avanti a casaccio, così seguendo un po' questo quello, insomma a casaccio perché non avete seguito veramente un metodo che ha una logica, una progressione e un'efficacia che io dico che è l'MVS, quindi questo è il primo vostro errore, se avete fallito figli all'email, avete fallito nella massa, quindi non sarete meglio dell'anno scorso, non è possibile, bene che vada salito uguali, bene che vada, il secondo motivo è questo, ammesso che avete fatto i compiti a casa per bene, magari avete seguito l'MVS a teoria dei conti in mag, avete migliorati, bravi, bene, questa è la prima cosa che dovevate fare, se l'avete fatta, che avete ottenuto questi progressi, sapete perché fallirete, ve lo spiego, perché li perderete nel corso della definizione, cioè quando voi comincerete adesso a dimagrire, a perdere peso corporeo, quindi mangiare meno, farete più cardio, quello che vi pare, lo farete in modo talmente sbagliato, talmente illogico, che perderete tutti i guadagni acquisiti, o quantomeno gran parte, e vi ritroverete con un fisico emaciato, scarso e poi direte oi boh, ma qui non funziona da natura quando ti vai a definire per di tutto, ci vogliono le bombe, Master Waller parla parla, ma tanto alla fine si sa che funziona così, ci sono sciocchezze, senza bombe non rimani magro e abbastanza voluminoso, quindi ok, volete pensare a questo? continuate così, allora continuate nel vostro fallimento perenne, perché questo è il vero problema poi fondamentale dei culturisti naturali, il più grande problema, se uno mi dice qual è il più grande problema dei culturisti naturali, uno potrebbe dire beh è diventare grosso con delle misure, è difficile, ma questo si può fare con il cibo, con il riposo, con il giusto allenamento, si può fare, il vero problema è quando dovete andarvi a definire, quando dovete dimagrire, è lì che si gioca la partita, perché il fisico di un natura che è sempre sull'equilibrio del rasoio fra anabolismo e catabolismo, quando andate veramente a toccare le calorie carboidrati, cominciate a aumentare l'allenamento, il cardio, quello che vi pare, è molto ma molto facile, anzi è molto molto probabile, è quasi fisiologico che andate a bruciare più muscolo che grasso, uno dirà oi boh, allora come si fa, non c'è vita uscita, bisogna fare le cose in modo logic progressivo e adottando tutte le misure che tamponano questa cosa, si può fare ovviamente, non solo perché io l'ho sempre fatta e anche chi mi segue lo fa e l'estate arriva sempre, quest'estate avremo anche il nostro gruppo per la gara, dei migliori fisici, di posing, quindi tutti stanno lavorando per questo, ma noi abbiamo sempre avuto i nostri ragazzi in forma d'estate, anche gli uomini, e quindi ecco fallirete per quello, perché sbaglierete la vostra preparazione di rimaldimento, guardate che, ok, e questa è la seconda cosa, adesso poi vengo al terzo punto, attenzione qui poi bisogna fare una riflessione sul terzo punto, molto molto importante, attenzione, cercate di cogliere sotto le righe quello che vi sto dicendo, siate pespicaci, dunque qualcuno dire, qualcuno semplicemente dirà, a me non interessa quel c'estate essere definito, io continuo con la massa, perché voglio crescere anno dopo anno in maniera indefinita, fino a che sarò al punto tale che sarà ora di definirmi, anzi qualcuno ancora più ingenuamente dice, che magari è già magro di suo, non ha ancora costruito una grossa massa, e cosa fa? Non mangia molto per rimanere magro, dice voglio crescere magro, quindi mi allenerò per anni rimanendo magro fino a che avrò la massa sufficiente, quindi secondo voi uno potrebbe crescere di massa muscolare perenne, di chili di muscoli perennemente, fino ad arrivare a pesi stratosferici, rimanendo magri, da natura, secondo voi è possibile? Io vi dico che non è possibile, vi dico semplicemente che non è possibile, senza una fase di bulk, evidente dove uno anche ingrassa da natura, non è possibile, che facciamo? Uno butta su 20 kg di muscoli di massa magra, 25, nel corso degli anni, rimanendo sempre magro, è possibile una cosa del genere, non lo so, io dico che non è semplicemente possibile, per cui una volta c'è un famoso detto di Sherlock Holmes che dice, una volta che avete eliminato tutte le cose possibili, tutte le spiegazioni possibili, l'unica che rimane per quanto improbabile, per quanto impossibile, è la verità, riflettete su questa cosa. Allora, ecco, se voi pensate di non definirvi queste state, perché volete continuare a fare massa perennemente, fallirete, fallirete, perché non funziona così, non può funzionare, l'organismo non può stare in una continua fase di accumulo di peso, massa, perché ci sono degli orologi interni, mettiamola così, adesso è complicata la questione, che l'organismo a un certo punto va contro questa cosa, perché si è talmente adattato che andrà contro e non vi farà più progredire, qual è il modo per svegliare questa cosa e farla ripartire alla grande. È un po' come, vi uso un'altra metafora brutta, se devo dirla, ma che però vi fa capire il senso. Molti economisti dicono che le guerre accadono perché è l'unico modo per rimettere in moto le economie e ripartire da zero. Si è visto nella storia che così è stato, molti economisti lo pensano, ovviamente se uno per far ripartire le economie deve fare le guerre, sappiamo che è una follia, perché alla fine le guerre portano morti, distruzione. È una follia, la guerra non va mai fatta, mai, e nessun motivo può essere sufficiente per scatenarla, ok? Scatenarla diciamo senza motivo, è chiaro che se qualcuno viene invaso e si deve difendere, è un altro tema. Ma voglio dire, una guerra fatta per il concetto di far ripartire l'economia è una follia. Però attenzione, questo concetto qua se lo adattiamo al fisico, alla massa muscolare, ha un senso. Per far ripartire il fisico in uno stato di nuovo di grande crescita bisogna per forza andare contro di lui. E qual è il modo di andare contro di lui? Fare una fase di dimagrimento e di definizione, molto accurata. Più dimagrirete bene e più la successiva fase di massa avrà un effetto di rimbalzo superiore. Questa è una mia idea della teoria dei conti in banca, che io ho sempre visto che funziona, me lo dicono tutti, perché se dimagrite bene d'estate, quando riprenderete la fase di massa, riparterete con molta più velocità e accelerazioni rispetto a quella precedente, con risultati, arriverete prima ai vostri limiti e quindi li potrete superare meglio. Cioè questo effetto si chiama di rimbalzo e si fa così, interrompendo il periodo di massa e facendo quello di definizione. Questo periodo di interruzione, rimbalzo eccetera eccetera è quello che nel corso del tempo vi consente al vostro fisico naturale di andare su fino ai massimi livelli possibili del vostro potenziale genetico. Se invece volete stare sempre definiti o sempre in massa, non andrete da nessuna parte, da natura, da natura, ok? Quindi questo è quello che io vi devo dire e per cui vi dico, fate voi, però il momento di cominciare a definirsi è adesso, c'è una famosa canzone che dice il momento è adesso, voi non vi ricordate. Quindi il momento è adesso e chi vuole fare le cose per bene sa che con noi può farlo con i coach online di Master e quindi vi aspettiamo. Master vi aspetta anche il suo seminario del 21 aprile a Ravenna e perderlo sarebbe veramente un grosso rimpianto che avrete per tutta la vita, sì, un grosso rimpianto. sento ancora qualcuno che accampa scuse del tipo, ma non so se riesco a liberarmi, perché, qua e là, il lavoro, lo studio, cioè un evento che capita, un giorno che capita da qui a due mesi, uno dice no, non lo so perché, non lo so, cioè come se quel giorno lì fosse imprescindibile che, il mondo non può fare a meno di lui, il lavoro non può fare a meno di lui, io ho sempre detto che mi sembra una scusa un po' campata per aria, perché allora dico se uno quel giorno lì cosa fa, si ammala, la ditta cosa fa, chiude, non so, non credo che il mondo giri intorno a una persona. Voglio dire che in due mesi si può benissimo programmare una domenica, quindi il discorso che non c'è tempo la vedo un po' labile, così come quelli che dicono ma qua e là sono un po' distanti, un po' distanti, c'è gente che abita qui molto molto vicino, però dice ma insomma sono qua, io vi dico che c'è gente che viene da fuori Italia, viene qui, quindi gente che abita a due passi dice ma però la distanza, fate voi, se non so scusa anche queste. Ovviamente qualcuno può accampare la scusa ma però è troppo costoso, qua di là, oddio troppo costoso ve l'ho detto, guardate in giro quello che fanno certi guru, o certa gente quello che vi fanno spendere molto molto di più per sentirvi dire delle immense sciocchezze, ok, allora può essere, ma considerate quello che ricevete. Quindi io vi aspetto, dunque l'ultimo libro di Master World, Bodybuilding Natural, c'è oltre 500 pagine cartacee, c'è tutto il corso del culturismo naturale di Master, quello che abbiamo fatto anche alla scuola, tutti i concetti, è tutto lì, oltre 500 pagine di un libro cartaceo che appena abbiamo pubblicato sta andando molto molto bene e vi mettiamo giù i link, per cui fate voi, c'è anche l'altro libro anti-aging, anche quello già qualche mese ha avuto un grande successo, quindi trovate i due libri di sotto, cartacei, anzi anti-aging lo trovate anche in Kindle, ma fra un po' uscirà a Kindle anche questo qui cartaceo, però so che molti vogliono avere il bel librone cartaceo in mano e quello è, quindi trovate qui sotto i link. Ragazzi noi vi aspettiamo, con il singolare di Master Wallace, la cosa migliore che potete fare per la vostra vita, oltre a venire all'evento di Master, ecco le scelte buone da fare nella vita, pensateci, perché dopo gli impianti, gli impianti costano, credetemi, al top.